possiamo permetterci di andare avanti perché se non succede questo ok non possiamo assolutamente andare avanti assolutamente ma c'è l'amore c'è l'amore di qua e c'è l'amore anche di qua ci vuole ancora per una stabilità ci vuole ancora per una stabilità e che le cose vadano bene questo è quanto io vi ringrazio vi auguro una buona serata vi invito a mettere un mi piace perché mi sto veramente appassionando a questo oracolo cioè mi togliete proprio le energie mi togliete ma sono contentissima perché anche a me insomma fa capire tante cose quindi invito a mettermi un mi piace a commentarmi ragazzi commentatemi perché io quando leggo la mattina mentre lavoro leggo i vostri commenti credetemi mi piace poi ci sono quelli che devo rispondere che rispondo e altri che metto chiaramente al vostro commento un mi piace un cuoricino per farvi capire che comunque vi ho letto e vi sono vicina ci ci sentiamo domani a qualche ora ok per il nuovo oracolo e questo è l'oracolo per il primo aprile domani 2022 un bacio a voi e a presto a presto